Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video, sono sempre Kevin e questo è il canale Just Parfum Siamo arrivati a 300 iscritti, vi ringrazio veramente tutti quanti uno per uno per il raggiungimento di questo risultato Mi sono però accorto che molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti al mio canale Quindi vi prego di iscrivervi perché è totalmente gratuito Detto questo oggi volevo parlarvi di un profumo veramente molto particolare che non avrei mai scoperto Se non sotto suggerimento di una persona che conosco e che saluto Nick, ciao Nick E si chiama Lattafa Mahir, Lattafa è una marca di profumi araba Quindi almeno in questa fragranza ho potuto sentire comunque una forte impronta arabbeggiante Allora Lattafa Mahir è questo profumo qui Io vi faccio vedere immediatamente la boccetta che è veramente un qualcosa di fantastico È fatta veramente molto bene, è un vetro pesante, inoltre il tappo è fatto di metallo Quindi è veramente di ottima fattura, anche nei dettagli della testa di cavallo è veramente un qualcosa di eccezionale La bottiglia è molto, come dire, anche non è uniforme, è molto strana, ha una forma molto stravagante Che la rende veramente molto alta, molto particolare e sicuramente nella collezione di chi la possiede Che rende giustizia e ha comunque una sua particolarità Allora la fragranza di cui vi parlo è una fragranza che non piace a tutti Io l'ho fatta sentire a due o tre persone e per il momento quindi sono veramente molto poche Poi nei prossimi giorni la farò sentire magari a qualcun altro Però è una fragranza che a me ha colpito sin dai primi spruzzi Perché è molto piaciona secondo me, non ha quella caratteristica di far capire il profumo Deve essere sentito più volte Cioè al primo spruzzo già si sentiva che era mia insomma, era un profumo che mi piace Vi avverto subito che è una fragranza veramente poco costosa, costa circa 30 euro L'ho presa su Amazon e vi lascio il link in descrizione se volete prenderla Al costo di 30 euro, spedizione comprese, viene dalla Francia perché in Italia non credo che si trovi Non so neanche se questa fragranza è stata discontinuata Questo non lo so, sul sito parfumo lo davano come probabilmente discontinuato Però comunque vi consiglio se siete interessati di prenderla perché comunque per il prezzo che ha Vi faccio vedere da vicino la boccetta, vedete ha questa forma molto irregolare Come vi ho fatto vedere prima Qui davanti c'è il nome Lattafah Mahir e questo simbolo arabo Che dovrebbe essere il nome del profumo scritto nella lingua araba Vi faccio vedere anche quella che è la confezione con cui arriva È veramente molto bella in cartone, qui c'è il logo del marchio La scritta qui è in oro E qui dietro abbiamo gli ingredienti Questa fragranza è prodotta da Emirati Arabi Quindi è veramente una fortissima fragranza, uno de parfum La confezione all'interno poi c'è la, come dire, la fragranza, la boccetta È legata con questo nastro Quindi anche la confezione è veramente molto carina E insieme all'ordine che ho fatto arriva anche la busta Che adesso non ho qui però riprende molto la fragranza in sé E la sua confezione Quindi la riprende il nero con scritto Mahir Lattafah Quindi anche se voleste fare un regalo è molto molto interessante Detto questo io vi volevo parlare un po' delle note olfattive Che compongono questa fragranza Ho sempre qui il mio tablet in maniera tale Che vi faccio tutta la lista Anche se poi vi metto sempre sul video La piramide olfattiva Allora è un vanigliato dal caldo legnoso È un profumo che è nato nel 2020 Le note di testa sono bergamotto, bacche rosse, pesca Le note di cuore sono peonia, giglio rosso e gelsomino E le note di base sono fiori di vaniglia, sandalo e muschio Allora io ho spruzzato già sulla mulette Uno spruzzo di questa fragranza Allora vi posso dire che apre veramente in maniera molto fresca Questo probabilmente perché in apertura abbiamo bergamotto, bacche rosse e pesca Quindi c'è questo mix che va ad aprire la fragranza in maniera fresca Non dico frizzante però è fresca e fruttata anche Ma non è una frutta diciamo che si sente accompagna questa pesca E dopo poco tempo intervengono subito le altre note centrali Che sono per lo più fiorite Come peonia, giglio rosso e gelsomino Non è una fragranza stucchevole Perché magari molti dicono Vabbè ma c'è il fiore di vaniglia, il sandalo e il muschio Quindi magari in coda poi nel dry down troviamo delle note stucchevoli No, secondo me è anche molto ben bilanciata È molto molto buona, molto molto particolare È un odore che è fresco, dolce e fruttato Lo ritengo perfettamente unisex Però attenzione che questa fragranza poi ha una certa Assume una caratteristica un po' più arabbeggiante Ma questo non vuol dire che è un male Cioè assolutamente È un profumo che si sente comunque l'impronta orientale E per me non è un male come ho già detto Perché la rende ancora più particolare Rispetto alle classiche fragranze che troviamo qui in Italia Che dire, la fragranza merita tantissimo Secondo me soprattutto per il prezzo che ha Ha una durata sulla pelle Veramente incredibile Io dopo una doccia Anzi è dopo due docce ancora Naturalmente avvicinando di molto il naso alla pelle Dove l'avevo spruzzata Si sentiva distintamente che c'era questo profumo sulla pelle Mentre sui vestiti è praticamente immortale Quindi se la spruzzate sul vestito Ve la portate appresso per qualche giorno Io la ritengo una fragranza non dico molto elegante Però comunque sicuramente adatta alla stagione primaverile Forse non a il legionario troppo caldo Perché potrebbe magari assumere una nota un po' troppo soffocante Però non lo ritengo un profumo caldo È molto molto particolare Infatti sul sito si legge anche che è un muschiato Floreale, dolce, fruttato Quindi è un mix un po' di tutto Che rende questo profumo indossabile Comunque in parecchie occasioni Con un tempo, diciamo una temperatura gradevole E primaverile sicuramente Per giornate non troppo calde Estive lo indosserei la sera Se non una serata troppo affosa Perché altrimenti si rischia di essere troppo pesanti E inverno-odunno secondo me è perfetta Io sono veramente molto contento di aver scoperto questa fragranza Grazie sempre alla persona che me l'ha suggerita Perché non ci avrei mai fatto caso Purtroppo esistono tantissime fragranze Soprattutto arabe Quindi andare poi a scegliere una che ti colpisce E una buona che fa per te è difficile È stato un blind buy E vi rimando anche al video che ho fatto sulle fragranze in blind buy Quindi se volete approfondire un pochino l'argomento Però è stato un blind buy Secondo me è andato a segno Mi piace molto Sono molto contento anche per la boccetta Perché è veramente una cosa stupenda Fa veramente concorrenza a molte altre case produttrici di profumi Perché è una boccetta secondo me molto molto bella Al di là del fatto che la fragranza poi è l'interesse principale Però comunque magari a volte anche l'occhio vuole la sua parte E quindi sono contento anche di questo Che dire Io consiglio a voi se volete investire un pochino in un blind buy Di acquistarla su Amazon Dubito che non piaccia Però naturalmente poi alla fine intervengono quelli che sono i gusti personali E io non posso farci nulla insomma su quello Però se vi piacciono le fragranze Non dico tanto fresche Però leggermente fruttate Leggermente floreali Non troppo sul femminile Questo è un perfetto unisex Se per me con una nota di vaniglia all'interno fruttata Secondo me potrebbe essere una fragranza ideale per voi Soprattutto per il prezzo e soprattutto per il fatto che dura veramente tantissimo Quindi sicuramente riceverete complimenti E detto questo io spero di esservi stato utile Di avervi portato a conoscenza di una fragranza di cui non ne sento mai parlare E spero di avervi acceso l'interesse Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Lasciate un like Condividete il video E iscrivetevi al canale soprattutto Grazie Ciao